Bruno Toscani, sindaco uscente a Villa Dossola, ha accettato di ricandidarsi. Il secondo centrossolano è infatti uno dei comuni che il 14 e 15 maggio sarà chiamato alle urne per rinnovare il parlamentino cittadino e scegliere il nome del sindaco che dovrà guidarlo per i prossimi cinque anni. La notizia della ricandidatura di Toscani era nell'area da tempo. Nel tardo pomeriggio di giovedì prossimo ufficializzerà la sua decisione. Nessuna indiscrezione invece trappelata circa la composizione della sua lista. I soliti ben informati azzardano che non si discosterà molto da quella che ha affiancato Toscani in questa legislatura. Intanto fermano i lavori anche sul campo opposto. Martedì sera il centrosinistra torna a riunirsi all'ex cinema. Potrebbe essere la sede in cui rendere pubblico il nome del papabile candidato sindaco. Rumors azzardano il nome di Mauro Ferrari. Lui non commenta. Dopo l'assemblea pubblica ad inizio febbraio e l'incontro ristretto di fine mese una cinquantina di persone si sono ritrovate proprio con Ferrari per elaborare le risposte arrivate dal questionario distribuito tra i villadossolesi nelle scorse settimane e dal quale sono usciti i desiderata della città. Sei tavoli tematici. Ogni tavolo doveva rispondere alla frase «Se fossi sindaco, la prima cosa che farei». È emerso che i cittadini di Villadossola lamentano periferie dimenticate, problemi di aggregazione al peppe, che ritengono necessario accorciare le distanze tra il palazzo e la gente. Chiedono anche una nuova azione di valorizzazione del teatro la fabbrica e ancora risposta in tema di utilizzo delle aree industriali dismesse. Intanto giovedì sera il Partito Democratico Provinciale ha scelto proprio Villadossola per confrontarsi sui risultati del congresso appena concluso con l'elezione di Ellie Schlein. A segretaria, la direzione provinciale del PD del BCO ha anche discusso del percorso elettorale in vista proprio delle amministrative di metà maggio.